Il padre è stata la loro mamma, ha parlato e è stata. Si ha asportato. E tu puoi parlare. Oddio. Era per il mio stato. Sì, sì, sì. Ma, se no, era il mio stato. Piccione. Non passò. Il mio amico è stato sesso. Lo so, lo so, lo so. Non so, lo so, lo so. Non 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 so. Non so, lo so. Non so, lo so, lo so. Non so, lo so. Non so, lo so. Ma, complimenti. Grazie, grazie. Infatti, hai visto già cose strane che... Tutti che mi porto, ci che mi ricorda le... Alla c'è lei è un naggio. Quello è un naggio. Un naggio. Qui non c'erano stato armate. No, è lo primo. Ma non mancavi. Questa è la prima morte. Queste sono tutte tue, no? Sì, queste sì. Bellissime. Sopri a Fiat e vinigli. Allora. Grazie. 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 Grazie.